è rossa rossa l'inglesino è compito con la rossa, comunque ci manca il sale tra l'acqua e il Pasquale ma ti chiede la metterla? la differenza? quando ti dite l'ente fisiologico puoi andare il sebezionismo ma stai sentendo, che significa il sebezionismo? puoi andare gli altri, puoi andare in estetica, nella tecnologia però senza armonia non ci sarà mai tecnologia perché la tecnologia è la sincronia quindi armonia sincronia ti fanno la tecnologia quindi se tu senza armonia non ci arriva la fisiologia come fai ad arrivare a cibetia? la differenza come fai ad arrivare a codificazioni? all'olicità sudare? la differenza tra mamma, donna e bambina ma se ne piacciono, se ne piacciono tu a sapere, a pensare alla fisiologia perché il cristianesimo puoi pensare tu per cristianesimo? avvicina, che ti faccio? 50.000, 40.000 è inutile che tu fai ad attenzione senza che tu sei per cristianesimo come si fai ad arrivare al cristianesimo? te la posso spiegare? e poi tu che fai? quando morì tu ti fai ad andare alla piazzetta e poi allora la posizione fisiologica devi avere le rese paracloniche e lui come fai tu? ti fatti tu dalla traumatologia per andare alla traumatologia che sarebbe la patologia tu cos'è che fai? e adesso la bugia terapeuta che passa dall'effetto placebo e poi perché... ma ne fatti le rese paracloniche insomma da quello biologico vai a quello virologico che passa dal ciclo si è giunti e tu ma ne fatti la posizione fisiologica è inutile per le parole ti senti buono ma tu stai a portare in atto il tuo fatto che ho fatto se tu e l'altro è tasso no, l'editore muore di fame perché un libro serve per darci a mangiare l'editore perché tu non c'è una macerina mentre non arriva alla fisiologia poi io sogno contrario all'editore perché dobbiamo apparire noi all'editore? no, scusa, che sento? devo cercare di registrarlo perché dobbiamo apparire all'editore? no, perché... se tu sei l'anima della fisica la scoperta del vaso, il potenio occidente l'attimo fuggente, la bugia terapeutica tutte le cose dipendono da te, non da lui io non ti posso neanche consigliare perché lui è per la scienza letteraria non per l'opera umana perché la questione è personale se non c'è la questione personale tu arresti tutti i lacchi e ti mangi sempre resta malato nulla è per il pazzo furioso non è un po' 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 non è un po'